Sulla attività criminale? Sì, io l'ho esordito così nella conferenza stampa di oggi dicendo a che punto siamo arrivati. La criminalità impone il pizzo, la propria tangente, anche sulle attività illecite. Quasi come ho detto in conferenza, un'agenzia delle entrate illecite. Lei ha fatto degli appelli alla cittadinanza? Sì, ho fatto degli appelli riprendendo degli appelli che avevo fatto in termini generali un anno fa quando ho assunto le funzioni di procuratore. Adesso con maggiore incisività ho detto che noi siamo pronti, stiamo dando delle risposte sia alle forze dell'ordine sia alla procura della Repubblica. Chiediamo ai cittadini di collaborare, di denunciare perché le risposte arrivano. E ho fatto anche riferimento al fatto che la denuncia di questo episodio per i quali sono arrivati gli arresti è degli inizi del mese di ottobre. In un mese c'è stata la indagine, la richiesta cautelare, l'ordinanza del CIP e l'esecuzione. In meno di un mese dalla denuncia sono stati assicurati alla giustizia i responsabili. Il che spero si traduca in un messaggio di fiducia dei cittadini dai quali aspettiamo sempre di più collaborazione, denunce e testimonianza.